troppo vicini come la sabbia con la riva che cancella tutto quello che i tuoi passi sbagliano che ne sai di cosa ho detto alla mia testa quando hai deciso di baciarmi ed io ho iniziato a respirare ragazzi che dire non è mai iniziato il programma con la musica e con Gioromano l'abbiamo fatto buongiorno Gioromano ciao buongiorno Walter che spettacolo allora questa sarà una puntata incredibile come dico sempre perché l'abbiamo fatta in maniera diversa normalmente c'è solo il mio faccione sono io invece oggi abbiamo iniziato in una maniera molto particolare perché Gioromano per me è diventato il mio idolo in un giorno in un giorno lui mi ha conquistato perché lo scoprirete fa un po' ma prima la sigla ed ora vi dico quali sono i miei sponsor chi mi supporta e sopporta Raboso e Prosecco by Leonardo in Etica e Serele il progetto perfetto webinar pro per fare i webinar di cui effetti fatti bene naturalmente live in media per fare i video fatti bene naturalmente due ld punto it events and communication per fare gli eventi fatti bene naturalmente e poi impara a fare le pr le pubbliche relazioni con Gerardo Capozzi poi vai da convergo del mitico Dario e impari a fare il business quindi fai contatti relazioni di qualità e se non sai da dove partire vai da valerio punto it tutto il web marketing del mondo ladies and gentlemen please welcome bando le ciance ciancio le bande Gior Romano ciao a tutti buongiorno buongiorno di nuovo Walter ed è un piacere per me essere qui in tua compagnia guarda e allora io sono veramente onorato della della tua presenza perché perché partiamo subito ti dico anzi cioè tu lo sai tutte le persone che mi guardano in questo momento che mi salutano buongiorno Giulia e buongiorno Andrea che fanno parte del degli esploratori quindi gli esploratori hanno l'opportunità di guardare la puntata in diretta mentre tutti gli altri se la guarderanno quando ve lo dico io dicevo mio collega mago tanti anni fa quando ve lo dico io e praticamente ero in clubhouse in una delle stanze più assurde del mondo ragazzi clubhouse io faccio 15 stanze a settimana ma ce n'è una dove io non conto niente entro e ascolto ci chiama caffè avariato a un certo punto e quelli di caffè avariato ormai mi conoscono quindi mi fanno salire ma mi danno il contentino ecco facciamo diciamo così no a un certo punto parla un tipo Gior Romano che cazzo è Gior Romano che sono un cantante che sembra che cazzo canti no perché fai le cose che cazzo vuoi andare a Gior Romano a un certo punto dice no niente io ho voluto fare una cosa molto particolare fare ogni giorno una canzone allora per chi degli anni 70 come me si ricorda un film che si chiamava Arnold un telefilm dove era Arnold che era piccolo e nero si girava e faceva come lo sto dicendo Willis in che senso 365 canzoni ce lo puoi spiegare Gior Romano direttamente da clubhouse uno dei pochi che entra nel webinar lunch senza passate per la mia conoscenza io solo audio ho detto questo un grande lo devo intervistare in che senso 365 canzoni 365 canzoni ho cominciato praticamente 46 giorni fa un po per gioco perché allora io nella vita voglio fare il cantautore e vorrei tanto che la gente cantasse le mie canzoni ora a prescindere da tutto penso che fare il cantautore sia una cosa che va al di là della possibilità di diventare famoso ma proprio per esprimere dei delle cose che magari a parole non riesco a spiegare allora mi sono detto ma siccome io nella vita voglio fare questo voglio scrivere canzoni perché non mi metto a scrivere una canzone al giorno per 365 giorni ho guardato la mia ragazza ha fatto sto per fare una cosa epica voglio cominciare a farlo mi sono guardato allo specchio detto magari smetto domani e nessuno se ne accorgerà però fatto sta che oggi siamo al giorno 46 e la cosa sta continuando a gonfie vele ed in mezzo questi 46 giorni sono successe un sacco di cose perché questa cosa ovviamente ha attirato un po l'attenzione delle persone che tu sei un folle che stai facendo questa cosa però sta funzionando sono veramente contento ecco questa cosa mi ha portato qui da te e io credo nelle connessioni quindi ci sarà un motivo per cui sono qui e sono felice di esserlo pazzesco veramente la roba incredibile o dell'emozione ho scritto 365 al giorno 365 canzoni una al giorno cioè scrivere una canzone al giorno è veramente tanto cioè vuol dire che bisogna mettere il testo il titolo deve avere un senso non può essere esatto entro in casa vedo la porta aperta e che bella giornata c'è deve avere anche un senso questa canzone devi dargli un titolo devi mettergli una musica c'è allora da dove partire c'è veramente una roba pazzesca perché avrei veramente un milione di domande da farti buongiorno marina allora partiamo rimaniamo e teniamo in sospeso quella parte del nel mentre cosa è successo perché per me tutto lì è tutto lì quello che io voglio portare alle persone nel mentre fai succedono cose incredibili e mi mi incazzo come una iena con la gente che non fa non fa ma teniamoci quella parte per dopo no ok c'è una canzone cosa bisogna fare per costruire una canzone quante cose ti servono allora prima di tutto ti serve io dico sempre a chi mi fa questa domanda bisogna avere una storia e un grande insegnante di scrittura che giulio rapetti quindi mogol dice che non basta la tua vita per scrivere una canzone serve anche quella degli altri quindi in primis bisogna ascoltare saper guardare quello che c'è intorno quello che ti suggerisce la tua giornata che sia un'emozione che sia un colore che sia una frase devi stare attento perché poi ecco tutti dicono ma l'ispirazione ti prende e tu non sai come come prenderla come trova farti trovare preparato no in realtà l'ispirazione è ovunque puoi aprire un libro leggere una frase decidere di partire da lì magari riportarla a quella che è la tua storia ed è quello che mi sta spingendo a farlo per esempio ultimamente mi sono appassionato ancora di più alla cultura greca quella dei miti e ho cercato di prendere alcune storie di quella cultura e riportarle all'interno dei miei testi per parlare appunto dell'amore per parlare della gelosia o per parlare appunto delle imprese impossibili c'è c'è un percorso c'è una storia io credo che comunque il mondo e la vita che abbiamo davanti ci ci regali un sacco di spunti proprio tanti allora guarda io dovevo fare anche questo che mi sono dimenticato che sono veramente c'è tu devi essere questo io dopo rientro quindi rientro e adesso parto hai detto questa cosa molto bella cultura miti testi cioè come io l'ho sintetizzata no c'è da una cultura scegliete voi quale quindi lui ha detto greci cosa ha preso quei miti e li ha trasformati in testi e con l'importanza di essere curiosi e con l'importanza di saper fare quello che ve lo dirò sempre gratifica condividi coinvolgi già sta facendo la gratificazione sta facendo questo guardate sta gratificando condividendo e coinvolgendo e come gratifica tutto lavoro fate dei greci lo sta gratificando perché se lui ne sta parlando vuol dire che quello che hanno detto non era così stupido è una gratificazione parlare di quello che ha detto qualcun altro condividere perché prende le loro cose e le condivide con il pubblico cioè prende l'amore che ne parlavano i greci e lo sta condividendo con il pubblico e questa nazione è condividere cioè dividere una visione altrui coinvolgendo le persone attraverso la musica questo è gratifica condividi coinvolgi vedete che se fate gratifico condividi coinvolgi migliorate il mondo anche se non volete e è impossibile non farlo quindi voi andatevi a prendere qualcosa dagli fuori qualcosa come diceva federico vitiello ascoltate un formatore prendete quello che dice ditelo agli altri attraverso come lui ve l'ha insegnato in maniera tale che gratificate il lavoro che va che ha fatto imparate a fare quello che vi ha detto e coinvolgete le i vostri amici a conoscere anche un'altra persona ma io non riesco a capire il perché della stitichezza che le persone hanno nel fare questo cosa vi blocca nel migliorare il mondo nel portare giorno umano cioè io oggi ieri o l'ho sentito in una in una room e non ci ho pensato due volte una persona così la devono conoscere tutti certo che non lo farò conoscere a un miliardo di persone ma cento persone che lo seguiranno wow c'è farò le stanze gli chiederò di entrare in una stanza con me nella stanza di di clubhouse si intende che è uno dice dentro la stanza ok c'è ragazzi miei guardate le opportunità che ci sono davanti come come insegna mogol deve avere una storia ne parlavo proprio pochi poco tempo fa in una diretta dedicata a soli agli esploratori l'importanza di avere dei contenuti cioè imparare a tutta la musica tu quanti strumenti suoni io ne sono uno il piano poi da qui è partita la curiosità verso appunto quelli che sono gli strumenti tecnologici perché oggi se sai come si utilizza una tastiera prendi un programma e puoi suonare tutti gli strumenti da lì però sono stato curioso su quello poi su quello ho una storia che mi piacerebbe anche raccontarti allora la teniamo in sospeso la diciamo fa 30 secondi il concetto è questo che cos'è la quella tastiera è un mezzo solo che se tu hai un mezzo e non sai che cazzo metterci dentro non serve a niente c'è una pianola messa lì ed è finito c'è una tastierina c'è il pianoforte che ti arreda la casa ecco quelli che sono i corsi di formazione che ti insegnano a come si usa la scatola ma devi metterci tu il contenuto e se non c'hai niente da dire mi dispiace non puoi ottenere successo devi avere cosa dire come fare non attraverso la tua storia e basta ma come ha detto giustamente jo tutto quello che ti circonda guardare fuori vedere la natura i miti greci prendere dei libri prendi qua un libro e incominci a raccontare qualcosa di questi libri puoi prendere veramente di tutto da come usare il cervello al management al copy e l'effetto placebo alla ricerca del santo graal io ho di tutti ho la bibbia l'uomo i suoi simboli cioè potete raccontare di tutto e la risposta è no ma sa non riesco no perché non c'hai voglia perché ci vuole impegno quindi giorno mano come sei arrivato quindi a questa storia di questa tastiera allora ti spiego io andai a sanremo da redronio a tentare la fortuna nella roulotte di fiat music entro in questa roulotte di fiat music gli faccio ascoltare un pezzo lui mi fa saresti in grado di riprodurlo piano e voce entro stasera ora devi sapere che io sul pianoforte mettevo tre dita per prendere tre accordi niente di più niente di meno quindi per me quella richiesta significava proprio tilt gli dico sì senza pensarci perché poi dovevo rubare a morsi quell'opportunità di salire a casa sanremo a cantare da quel momento mi sono messo in moto ho cercato un pianoforte per tutta sanremo l'ho trovato in un bar di un signore anziano che ancora ricordo con affetto che si chiama gerardo lui mi ha fatto entrare mi ha detto prendi questo piano e fai come se fosse tuo mi sono messo dalle due un quarto di pomeriggio fino alle otto a suonare il piano per capire come dovevo fare quella canzone ce l'ho fatta sono arrivato da redronio l'ho guardato e ho fatto mi hai fatto fa tutta sanremo a piedi lui ha raccontato questa storia mi ha permesso di utilizzare una piccola sequenza ma io quella sera ho suonato quindi da quel momento in poi ho deciso di imparare vera propriamente il piano sono andato da un insegnante lo sto ancora seguendo perché la musica è infinita quindi devi sempre approcciarti allo strumento e a quello che stai facendo la musica infinita qui hai detto qualcosa di poetico la musica è infinita ragazzi avete quanti tasti hai lì 88 88 quante sono le note sono sono giustamente 88 però è fondamentalmente quelle che noi conosciamo dovrebbero essere 7 più i tasti dei diesis che sono 5 quindi 12 capite cosa si può fare con 7 più 5 per arrivare 88 per arrivare all'infinito ci vuole l'impegno se non ci metti l'impegno riesci a farlo entro stasera poteva rispondere no è quello che dice la maggior parte delle persone ci vediamo stasera facciamo l'evento facciamo eh non riesco eh non posso non ce la faccio e alle volte sono delle scuse io dico sempre che la vita è una questione di priorità quello che è prioritario per te tutto là non è sbagliato io no non giudico nessuno ognuno sceglie quello che vuole della sua vita non c'è nessun problema il problema è quando non vanno bene le cose vengono a lamentarsi e lì si prendono il ma vai a quel paese perché siamo un popolo di gente che si lamenta che siamo in zona rossa quanti stanno facendo una canzone al giorno se in zona rossa bene devi stare a casa fai una canzone al giorno scrivi un testo al giorno fai un video al giorno no siamo in zona rossa bastardi maledetti non ci fate vivere cosa stai facendo quando sei in zona rossa guardi netflix cosa pretendi della vita quindi ecco perché io mi sono distaccato tanto dai social tanto da tante persone perché perché erano persone che erano lì solo a fare altro invece di mettere veramente il proprio impegno nella vita per dire ok c'è un momento di difficoltà ne vengo fuori riesci a farlo entro stasera guardate la fame la fame di gioco questo si chiama fame se hai fame arrivi alla fama ma se non hai fame la risposta è riesci a farlo entro stasera no non ho una tastiera perché perché è una priorità per te ma se per te è il tuo momento rubare a morsi avete sentito che parole forti rubare a morsi ha detto cioè andare lì e trovare un metodo trovare un bar che abbia una tastiera per andare lì a imparare a fare qualcosa che non ce l'hai dentro eppure c'è una motivazione talmente grande che ti porta a fare cose impossibili e questo è il sunto io per questo ti dico io l'ho sentito ieri quando tu hai detto una canzone al giorno detto questo questo è folle questo è pazzo non sta bene uno che non sta bene fa una canzone al giorno come fai a svegliarti la mattina e dire faccio una canzone perché perché io l'altro anno ho fatto questo ho fatto 41 puntate consecutive poi ho dovuto mollare perché ero da solo e stavo sclerando cioè la gente non faceva un cazzo tutto il giorno io non dormivo la notte eravamo in pieno lockdown e io non dormivo andavo a dormire alle due di mattina mi svegliavo le sei dovevo imparare le newsletter no combinate di danni ho mandato newsletter mi hanno bloccato l'email c'è gente che mi ha scritto che stai usando le mie mail senza permessi mi hanno mi è successo credimi mi è successo di tutto mi è successo no però poi alla fine sono andato avanti no ed ecco che parliamo di costanza e creatività e quindi la creatività ok ne stiamo parlando un po ma io voglio parlare di costanza del fare un video al giorno fare un articolo al giorno ne ho parlato proprio l'altro giorno in questa diretta agli esploratori create contenuti fare una canzone al giorno significa creare contenuti allora aspettando la domanda che vi faccio vi faccio una domanda voi che ci guardate qui al webinar launch cosa potete fare da qui al allora questa puntata va in onda il 17 al 17 marzo 2022 ecco qua cosa siete disposti a fare cosa sei disposto disposto a fare da qui al 17 marzo 2022 avete un anno di tempo per fare ogni giorno una cosa ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni se rispondete a questa domanda se rispondete a questa domanda fra un anno saranno successe delle cose ma non fra un anno perché adesso ne parleremo con Joe c'è cosa succede nel mentre in quello spazio che passa dalla tua idea folle del dire faccio 365 canzoni che significa che al 365 giorno tu hai eseguito il tuo compito e cosa ti ritrovi 365 canzoni perché la gente non lo fa perché che cazzo me ne faccio di 365 canzoni ma nel mentre che tu le fai cosa succede raccontaci la tua storia allora nel mentre che facevo queste canzoni cioè i primi due giorni mi contattano i miei insomma colleghi più stretti cominciano a fare ma tu veramente hai cominciato a fare questa cosa e gli faccio guarda ripeto potrei smettere domani ma comunque sia sto cercando di fare questo esperimento perché prima o poi qualcuno nella vita dovrà farlo nasce clubhouse mi iscrivo a clubhouse spinto dalla mia ragazza e comincio ad entrare nelle stanze in cui si parla di musica parlo di questa iniziativa folle ad un discografico e fa io non ci credo e io gli dico ok eravamo al giorno 3 e tu ti faccio sentire le prime 3 e lui fa ok allora visto che tu stai facendo questa cosa io ogni giorno creavo una stanza tu entra ogni giorno e fammi sentire la canzone del giorno io per i primi sette giorni entravo gli facevo sentire la canzone del giorno ed era sempre diversa io non ci posso credere che tu stai facendo questa cosa e tra le altre cose ho avuto uno dei complimenti più belli della mia carriera perché mi ha detto io non riesco a comprendere come sia possibile che sette canzoni siano scritte con cognizione di causa siano fatte arrangiate e ci fai anche i video perché poi giustamente dovevo fare anche i video per pubblicarli su instagram no? passano i giorni creano la rumo musica italiana clubhouse mettono in palio per un artista solo la possibilità di essere lanciato da un progetto discografico che vedeva insieme 4 etichette un ufficio stampa tutta questa roba qua entro in questa stanza racconto di questo progetto sempre supportato dal tizio che prima non credeva a questa cosa ma che adesso era diventato proprio un fan sfegatato quindi di conseguenza avevo tra virgolette il mio primo supporter un po' più elevato finisce il concorso e chi ti va a vincere? io io ho fatto ma siete seri? e loro cosa dicono? noi non abbiamo premiato la canzone che hai mandato noi abbiamo premiato la progettualità perché abbiamo visto che con te ci si può lavorare per un progetto più duraturo e la prima domanda che ho fatto io è stata ma io posso continuare comunque a scrivere 365 canzoni? mi devo fermare? e loro mi hanno detto no tu devi continuare perché questa cosa qua porterà tra virgolette a tanti piccoli risultati e questa è la storia più grande poi ce ne sono state anche tante piccole collegate che mi hanno portato a comunque dare dei miei pezzi ad altri artisti quindi tra virgolette monetizzare con quello che io avevo fatto per scherzo perché comunque loro mi hanno chiesto scrivimi dei pezzi e questa cosa qua mi ha portato tra virgolette a dire cacchio sta diventando un vero e proprio lavoro a 365 proprio ecco 365 gradi per restare nel tema però ecco insomma è stata una cosa molto molto interessante molto molto figa e mi sta tra virgolette anche permettendo di togliermi qualche sfizio e ampliare quello che è la strumentazione perché poi ogni soldo che io prendo tra virgolette lo investo qui dentro perché quella è la mia vita e quello voglio fare pazzesco qual è il prossimo acquisto che vuoi fare? allora di sicuro il prossimo acquisto che voglio fare sono delle casse passive perché io ho delle casse attive e quindi di conseguenza vorrei essere equipaggiato ed avere anche questa possibilità qui ma non per altro per avere un ascolto comunque diverso rispetto a quelle che ho perché io sono un fanatico del vintage e ho comprato queste casse cioè ho comprato ho avuto la fortuna che il mio insegnante di piano si stava togliendo queste casse quindi le aveva pute a un prezzo ridotto queste casse sono fuori mercato quindi giustamente non si fanno più cioè non sono che solo vintage anni 80 si chiamano NS10 comunque sono bellissime però insomma non mi permettono di avere che sono molto grandi la possibilità di spostare questo studio tra virgolette da altre parti quindi spero di poter comprare queste casse un po' più piccole da poter portare in giro costo dell'operazione? costo dell'operazione dovrebbe essere intorno ai 400 euro mi allora ragazzi questa puntata qua gliela dedichiamo a Joe quindi i soldi che entrano dentro da questa puntata glieli mandiamo seppur solo 10 euro non è un problema quindi per poi punto me slash dona webinar lunch i soldi che entrano dentro da questa puntata ok? non spieghiamo a lui dove li mandiamo normalmente perché sono affaraci nostri quello che entra dentro da questa puntata anche 15 euro basta non è un problema chi se ne frega io gli mando quello che c'è senza eh che no potevamo di più di meno ci c'è quello che entra da questo paypal.me slash dona webinar lunch alimentiamo un sogno perché quello che mi piace farvi capire è che non sono 365 canzoni che vi cambiano la vita e fare le 365 canzoni e fare la numero 40 e fare la numero 41 e fare la numero 42 che ti cambia la vita la numero 43 la numero 44 la numero 45 la numero 46 sono quelle che ti cambiano la vita non la 365 la 365 probabilmente farà do perché tutto quello che c'è dentro vi perdete il contenuto il contenuto è questo è prendersi il tempo per creare perché nel mentre crei il contenuto metti dentro il contenuto lo metti dentro appena lo metti dentro qualcuno lo vede e dice ah ma dai hai un naso rosso oh che bello le connessioni si creano così facendo io non so più come dirlo in che lingua se mettervelo tipo matrix l'unica maniera per per realizzare il vostro successo è fare contenuti mettere creare generare non fare contenuti prendere la citazione di Pippo Franco e metterla là dicendo buongiorno è inutile mettere la citazione di Andy Warhol e di Lao Tzu non me ne faccio niente non è un contenuto è un contenuto altrui è un contenuto di di lei è un contenuto di lei ma non è tuo nessuno ti sceglierà se tu scrivi il suo contenuto ma se tu prendi il suo contenuto gestione del tempo prima ti accennavo un vantaggio secondario dell'utilizzo del marketing automation applicato al numero verde 800 ovvero la gestione risparmio di tempo e mi crei dei contenuti sulla gestione del tempo quindi prendi spunto da qua e da qua apri una una storia allora è una figata perché crei quella connessione che ho detto prima quel coinvolgimento perché puoi parlare di lei in più tu porti il tuo sapere ma se tu non hai niente da dire puoi solo spostare scatolette nel reparto tonno ragazzi non avete speranza se non portate miglioramento se non nutrite il mondo ciò che non nutre muore ragazzi ciò che non nutre è la natura che lo insegna non io non sono il super guru non sono nessuno ma nel momento in cui ho cominciato a nutrire qualcosa è successo quindi voi nutrite questa cosa qua do una webinar launch tutto quello che viene fuori da questa puntata glielo mandiamo magari si comprerà solo la la presa asciuco perché però intanto non se la deve comprare intanto gli siamo andati incontro intanto è la canzone numero 40 allora se viene una mercoledì saremo alla canzone numero 52 ecco la canzone numero 52 ragazzi quindi che si chiamerà chissà come guarda voglio essere tra virgolette me lo segno il titolo facciamo così la chiamo perseveranza proprio in onore della puntata bello 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 perseveranza ragazzi perseveranza eccolo qua quindi fate una donazione ragazzi perché veramente possiamo con poco perché se siamo in 50 e 50 danno un euro sono 50 euro se date due euro sono 100 se siete in 100 e diamo ognuno 4 euro gli abbiamo comprato le casse guardate che facile e puoi realizzare il suo sogno magari prima e migliorarlo ma se non fate niente se avete la stitichezza dentro ragazzi dove volete andare webinar lunch song scrive Francesco Boccardo ci faremo fare anche la nostra canzone avremo anche la nostra canzone gliela chiederò e ti chiederò sarò contento di farla guarda sono felicissimo di farla vedi bravo Francesco Boccardo che me l'hai fatto me l'hai fatto notare quindi vedete l'importanza di di creare di generare che non è 365 e dopo la numero 40 viene fuori qualcosa ma prendete conto che dopo la numero 2 è arrivato fuori qualcosa perché lui solo per averlo detto ha scatenato qualcosa solo per averlo detto lui l'ha detto e non l'ha fatto quando vi dico fatto è meglio che perfetto probabilmente la prima canzone adesso non dico che sia una merda non voglio permettermi però probabilmente la prima canzone non aveva tutto quella pil che adesso è la quarantesima non aveva la pil che ha la centesima non aveva la pil che ha la duecentesima naturalmente ogni giorno una ogni giorno una ogni giorno una c'ha un c'ha un come dire un intruso è un intruso che è entrato in camera è mio fratello vabbè è mio fratello quindi questo è il senso vedete l'importanza di riuscire a creare perché nel mentre perseveri nel mentre perseveri generi generate la generazione deriva dalla perseveranza un webinar al giorno guardate dove mi ha portato a creare un academy ad essere riconosciuto a un millionaire che mi ha fatto un articolo funziona così ragazzi ma se non lo fate diventa complicato allora abbiamo premiato la progettualità ti è stato detto no perché cosa come l'hai progettato cioè come sei riuscito a capire che comunque non stavi facendo una cosa fuori dalla portata cioè una cosa è dirla e una cosa è farla quindi come hai fatto a capire che comunque avevi la la possibilità di riuscire nelle 24 ore di creare una canzone allora in realtà io sono partito dal fatto che avevo tante canzoni di di scarto come a dire ok nel caso in cui qualche giorno dovessi andare male qualcosa ce l'ho quindi di base ho detto ma poteva durare una settimana questa cosa e quindi ho detto pure così almeno una settimana ce la faccio c'è per esempio appunto mio fratello che è passato prima ha detto ma potevi fare tipo solo un mese ho detto no ho provato a fare un anno e ti dirò la possibilità di dire io ce la posso fare non c'è ancora tutt'oggi cioè io dico sempre magari domani mollo però ecco la voglia di riuscire a farcela dire oh io so il folle che ce l'ha fatta è sempre più forte quindi di base se ti dovessi dire che io so di farcela ti dico boh però se ti devo dire mi sveglio la mattina con la voglia di farlo quello sì quello sì te lo dico subito quindi questa è la la chiave secondo me guarda questo me lo scrivo perché so di farlo no so di farlo no forse non ci arrivo ma guarda qua guarda qua guarda qua no vabbè che figata grazie ragazzi veramente vedi questa questa è la bellezza questa è la bellezza grazie grazie Marina quindi so di farlo no so di forse però il sapere di come l'hai detto tu il sapere di tra virgolette di entrare nella storia no sì 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 esatto quella è la cosa voglio fare qualcosa che lasci una traccia quella è la la realtà quindi sono passato di qua capito fantastico lasciare lasciare una traccia allora che cosa è questo ragazzi è molto semplice si chiama motivazione il motivo per cui ti alzi la mattina e incominci a fare se non hai motivazione non vai da nessuna parte io dico sempre che se vuoi veramente realizzare il tuo progetto deve essere il primo la prima idea che hai quando ti svegli e l'ultima quando vai a dormire è come quando sei innamorato sei innamorato quando vai a dormire pensi a lei ti svegli la mattina e pensi a lei e si nota che pensi a lei per altre cose capite ma se voi andate a dormire che avete altri pensieri non è non è quello non c'è la motivazione non c'è la motivazione e la motivazione arriva solo se vuoi veramente fare qualcosa di grande questa mattina mi sono svegliato alle sei andato a dormire alle una ieri ho delle cose talmente belle da fare che mi sono svegliato alle sei sei sveglia sei mezz'ora per ribaltarmi dal letto colazione le sette ero operativo quello che ti spinge che devo fare devo fare la puntata devo fare la puntata in clubhouse devo registrare il video con te devo preparare tutte le consulenze ma che figata stamattina avevo la consulenza con un ristorante danese ragazzi che sono degli italiani che sono su che sono su in Danimar che dovevano trovare un nuovo claim e hanno pensato a me però non potevo svegliarmi alle nove e mezza con l'appuntamento alle dieci sono svegliato prima ho preparato prima ho fatto tutte le mie cose ho registrato il video ho fatto tutta una serie di cose dopodiché ero pronto per loro poi ho fatto la mia stanza ma c'è una motivazione dentro che ti spinge ma se non hai motivazioni non vai da nessuna parte ne abbiamo parlato nella puntata di ieri con Laura Bersellini ritrovare è la motivazione se avete una motivazione piccola farete cose piccole se avete una motivazione grande farete cose grandi è tutto là è tutto là e per questo quando ho sentito Joe in quella stanza ho detto questo è da portare questo è più folli di me perché io non ho fatto 365 webinar perché? perché i webinar erano davo agli altri gli altri non mi davano indietro li ho mandati a fare fa culo perché? ma è questo quando tu dai 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 e vedi che dall'altra parte non ti arriva ti stanchi e io ho avuto questa crisi quando vedevo che facevo e la gente se ne sbatteva ho mollato poi a fine agosto ho detto ma Walter riprenditi e mi sono rimesso a fare i webinar senza più guardare quanta gente mi guarda non me ne frega niente di quanti mi guardano sono affari vostri volete guardarlo sono felice non volete guardarlo è uguale è la vostra vita e voi che avete perso l'occasione di conoscere Joe e voi che avete perso l'occasione di migliorare la vostra vita non ho perso io l'occasione come dico sempre la mia grande fortuna è quella di ogni volta prendo una persona e io miglioro sempre un'ora al giorno sono destinato a migliorare io perché sono costretto a stare qua per un'ora tu non vuoi e fai quello che vuoi della tua vita la gente mi dice ti vuoi lanciare il mio progetto ma lancia il progetto e lanciati anche tu perché perdi le occasioni le vere occasioni ti passano davanti e tu sei talmente preso da te stesso e te lo dice uno che era preso da se stesso quando ho capito io lo faccio poi se mi avete guardato mi volete guardare io sono qua sono felice non mi volete guardare è uguale quindi siamo arrivati a questo concetto della perseveranza ne abbiamo parlato abbiamo visto quante cose succedono dentro alla perseveranza quante occasioni si creano all'interno di questa perseveranza no? se dovessi tornare indietro quindi non a 40 giorni fa ma un anno fa quando c'è stato il primo lockdown ti rode un po' il culo di non aver incominciato un anno fa o va bene lo stesso? sai cos'è? che quando c'è stato il primo lockdown io ho utilizzato tutto quel tempo per creare connessioni cioè nel senso che comunque anche quando c'è stato il primo lockdown avevo un progetto simile ma fondamentalmente erano sai video cover sono finito a lavorare perché di base avevo sviluppato questo senso nel fare i video quindi ero bravo a montare i video non ero bravissimo non ero una cima però li montavo questa cosa qua mi ha portato ad entrare in contatto con tanti musicisti più loro chiedevano video più poi mi chiedevano di fare collaborazioni quindi questa cosa qua mi ha tra virgolette aperto una strada che mi ha portato a crescere sotto quel profilo quindi tra virgolette il mio nome è cominciato un pochino pochino a girare però sai per gli amici sempre quelli là che fanno questo nel senso come sei arrivato a quello come sei arrivato a fare quello io sinceramente faccio i video non è che poi loro mi hanno chiesto di cantare per tra virgolette dire guarda ci sta che facciamo una cosa insieme sei stato gentilissimo cose del genere io ho sempre detto ragazzi se lo fate per così guarda no però di base quelle persone si sono sempre messe a disposizione e sono tuttora a disposizione quindi ho creato una connessione ho creato un nuovo contatto che mi servirà nel mondo del lavoro però ecco tutto questo periodo passato a sgobbare a fare cose a sviluppare anche un senso migliore nell'utilizzo di quelli che erano i macchinari adesso mi ha portato a dire lo posso fare però ecco se avessi cominciato un anno fa sarei andato in seria difficoltà perché magari non conoscevo bene l'utilizzo della tastiera non conoscevo bene ancora il programma di registrazione e come essere rapido nel senso di ok si deve fare questa cosa piano ok loop come si mette come si mette la batteria qual è il suono da fare creare un setup tutto quello è stata palestra quindi adesso ho cominciato a giocare è quella la cosa che magari potrei dire no l'anno scorso non ce l'avrei fatta ok tu hai detto questa cosa molto bella voglio voglio entrarci un attimo hai parlato di hai fatto palestra e adesso hai iniziato a giocare cioè prima di riuscire a fare la canzone cosa hai fatto per allora secondo me questo è un passaggio bellissimo che puoi veramente migliorare la vita delle persone pensa te alle volte uno dice le robe invece ognuno dice delle cose meravigliose perché fare la canzone vuol dire creare contenuti ma tu mi hai appena detto prima di creare questi contenuti io non sapevo utilizzare gli strumenti quindi ho dovuto imparare utilizzare alcuni strumenti allenarmi per poi creare il contenuto che stai creando oggi quindi hai creato altri contenuti prima esatto quindi che cosa hai fatto prima qual è stato il pre il pre prepararsi per il prepararsi quindi per incominciare a scrivere le canzoni qual è stata la parte prima la parte prima è stata mettere le mani sullo strumento proprio sul piano quindi cominci a capire come risponde il piano al tuo tocco come risponde la penna al foglio quando cominci a scrivere cose che magari non riguardano anche solo la tua vita perché come detto prima io ho cominciato a parlare con le persone e dire solamente come stai ma senza voler dire come stai non ci sentiamo da tanto no raccontami come stai cosa stai vivendo perché da quelle parole là io ho cominciato a mettere su carta prendevo io mi ricordo sembravo un folle sembravo matto perché le persone mi rispondevano sai sto bene oggi mi è capitato questo questo e questo io prendevo appunti sta cosa qua poi è cominciata a degenerare perché loro raccontavano a un certo punto a un ragazzo io ho chiesto proprio senti mi racconti un po' della tua storia tu che fai nella vita come sei arrivato a fare questa cosa nella tua vita ho detto dimmi tutti i dettagli e lui mi ha raccontato sta cosa e buttavo giù buttavo giù lui ha fatto ma perché stai scrivendo ho fatto no perché mi devo ricordare questi passaggi perché ne voglio parlare quindi da lì ho cominciato a prendere informazioni sia per quanto riguarda proprio le storie prendere informazioni per quello che riguardava lo strumento avere consapevolezza di quelli che erano i mezzi con cui stavo lavorando e poi cominciare a produrre cose mie cioè la prima canzone che ho prodotto da solo cioè da solo proprio senza avere tra virgolette l'aiuto di nessuno è stata fatta durante il lockdown e è stato è stato divertente è stato un esperimento ma se la risento dico porca miseria facevo quella roba lì a distanza di un anno non mi sembra così tanto vera questa cosa qua perché poi ecco migliorando piano piano ho cominciato a mettere le mani davvero sullo strumento a chiedere informazioni essere curioso a dire ad un pianista importante di dire guarda come lo faccio questo accordo perché dovrei farlo così perché suona in questo modo prendere queste informazioni per me è stato fondamentale aprirmi a studiare conoscere mezzi partecipare alle dirette per esempio di chi faceva il cantautore per davvero sentire le canzoni in un altro modo questo mi ha aiutato tantissimo a dire ok posso farlo voglio mettermi in gioco ci provo poi insomma va bene va bene va bene non mi interessa però avevo voglia di esprimere di raccontare questo era tanta roba veramente io ho nel frattempo aggiunto questo perché punto uno prendere informazioni ops si chiama webinar launch ops uno prende informazioni ogni giorno formatori diversi personaggi numero due usare gli strumenti ops quando dico imparate a usare streamyard fare le dirette fare i post fare i blog lumen5 imparate usate gli strumenti usate 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 niente vuoto cosmico vuoto cosmico vuoto cosmico vuoto cosmico tre crea contenuti una volta una volta che sai come si usa questa cosa qua che si chiama streamyard crei contenuti ma ci vuole niente perché perché hai le informazioni precedenti le unisci quindi informazioni una volta che ce le hai sai cosa parlare informazioni imparo lo strumento e dopodiché ci metto dentro e ho preparato il pacchettino col fiocchettino ho fatto tutto guardate com'è molto più semplice di quello che voi crediate è molto più semplice è molto più semplice prendi informazioni guardi webinar launch usa gli strumenti ho frantumato i maroni con gli usi degli strumenti fate 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 dirette fate un video fate 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 crea contenuti incominci ad avere i contenuti importanti li metti dentro dopo che hai imparato a fare e il gioco è fatto ma se non avete informazioni non avete niente da dire se non imparate a usare la tastiera non potete fare le canzoni il contenuto dove lo metti puoi avere i contenuti più grandi al mondo ad esempio i grandi gli insegnanti a scuola hanno le informazioni ma non sanno usare gli strumenti non sanno usare le lavagne non sanno usare il public speaking non hanno gli strumenti per spiegare quello che loro sanno lo spiegano come dei cani i cani sono meglio perché da un essere umano io pretendo di più e non è possibile che un insegnante non sia capace di spiegare perché l'esame che viene fatto un insegnante è l'esame su quello che sa invece dovrebbero capire anche come lo espone per capire se poi una persona sarà interessata alla sua cosa quindi è prendere informazioni usare gli strumenti e creare contenuti è tutto là l'avete scoperto oggi tramite un musicista un cantautore un secondo me un giocogliere delle note sei un giocogliere delle note tu mi piace questa definizione un giocogliere delle note mi piace sei un giocogliere delle note cioè tu perché le fai girare ogni giorno diverse non canti sempre stesso se ti chiedessi di fare alleluia saresti pronto o c'hai una registrazione la registrazione ce l'ho ti posso far ascoltare la registrazione magari vediamo se riesco ma dovrei avere io camminavo per strada e ho beccato la sua diretta su instagram sono entrato e in questa diretta lui ha detto oggi ho fatto una canzone nuova perché l'ho conosciuto il giorno prima oggi ho fatto una canzone nuova e si chiama alleluia oh quando ha chiuso la diretta io la canticchiavo cioè grande ma posso canticchiare una canzone di uno che neanche non conosco eppure ti faccio sentire la registrazione solo per un motivo perché tu hai ascoltato alleluia e hai sentito insomma che tipologia di brano è quindi magari riprodurla da solo perché poi la cosa fondamentale dei pezzi è che io ci ci lavoro tanto no e alleluia in particolar modo ha bisogno di tante piccole cose tanti piccoli dettagli che sono tante voci perché è un pezzo gospel e te la faccio ascoltare con la registrazione sperando che si senta bene ai vediamo vediamo tanto dati da no nessuno mi ha chiesto tanti di domanda dipinti sul muro che ho imparato a colpire no nella rabbia nei sedici no a te che cosa importa se sono un tipo regolare con l'attitudine a mangiare male se credo che il deserto sia un mare consumato da troppo soli troppo sole troppo solo che non sa gridare alleluia niente facciano alleluia i brividi e troppo tempo che non gridiamo alleluia madonna c'ho i brividi mamma mia che roba puoi capire fantastico ecco e fatemi un giorno ragazzi cioè vi rendete conto ogni giorno una canzone ogni giorno una canzone ogni giorno una canzone alleluia cioè arriva in caffè variato e cantaci una canzone e parta il settembre bella anche quella e dico ma è possibile che ha fatto settembre era bella l'ho ascolto la sera dice alleluia è bella anche quella cioè dove ci sono dei cantanti che li ascolto e faccio ma no non si può sentire sto qua cioè è pazzesco quindi tanti tanti veramente i complimenti veramente non tanto per le canzoni cioè e per la mentalità per il mindset i complimenti vanno per il mindset per la la voglia di emergere di dire io ci sono in questo mondo guardatemi ci sono canto una canzone non mi avete per il culo ne canto due non mi avete per il culo tre non mi avete per il culo non mi avete per il culo cinque non mi avete per il culo uno al giorno vaffanculo vedrete che mi vedete adesso ed è questo il senso ragazzi e questo è il senso io voglio portare le persone a a sbloccarsi a a uscire e che non io non che poi c'è quella zona di comfort che viene abusata nel mondo della formazione la zona di comfort non è nient'altro che sto bene per chi me lo fa fare andare fuori che è freddo la regione non andare fuori che è freddo stai qui è normale è logico che non devi andare fuori prendere freddo ma apri la finestra arieggia un attimo senti che fuori c'è l'aria pungente mettete il naso fuori poi mettetevi un giubbotto vestitemi bene e andate fuori non puoi uscire così in maglietta esco ma sì no perché prendete le bastonate non tutti sono pronti la pandemia è stata questa la gente non era pronta al cambiamento la gente non era pronta non era abituata aveva il suo lavoro hanno sempre fatto tutto uguale non sono pronti al cambiamento nella mia vita ho dovuto sopportare vari cambiamenti quindi quando è arrivato al cambiamento è stato l'ennesimo del cambiamento quindi non mi ha colpito adesso è diventata zona rossa tutti in crisi zona rossa a me non cambia niente sono caso faccio quell'azione esco faccio la spesa cioè non mi è cambiato niente ma non tutti sono pronti a prendere i zero gradi ma aprite la finestra prendete aria ascoltate fuori fate ah che aria frizzante aspetta che mi metto un maglioncino aspetta che mi mi metto fuori dalla finestra e quando senti che c'è più freddo ti metti un giubbotto ti metti un cappello e dici dai adesso esco ma se non fate queste robe qua se non incominciate a prendere il la voglia di di emergere ragazzi rimanete sotto e emergere è quello la parola emergenza pensa che roba giò quando si parlava di emergenza che ha creato la pandemia in realtà l'emergenza deriva da emergere cioè da far venire fuori quindi se ci sono dei problemi è perché i problemi c'erano già i problemi c'erano già da tempo problemi familiari problemi della scuola tutti questi problemi che sono venuti fuori c'erano già perché se no non sarebbe stata emergenza uno stato che vive bene che è una società che funziona che ha gli ospedali che funziona non ci sarebbero emergenze abbiamo gli ospedali a pezzi perché hanno tolto tutti i soldi e gli ospedali emergenza non è emergenza sono degli anni che avete sciacallato gli ospedali e adesso ne paghiamo le conseguenze fine non è emergenza è emerso il fatto che le persone non sono abituate al cambiamento le persone erano tutte tranquille sto male vado in cassa malati tanto c'è qualcuno che mi paga no non è così ragazzi perché adesso chiuderanno ci saranno i disastri come puoi emergere? ve lo faccio vedere come puoi emergere guardate come puoi emergere così cosa sei disposto a fare da qui al 17 marzo 2020 ogni giorno cosa sei disposto a fare? niente e ci vedremo qua fra un anno e dirai eh però la pandemia non è passata siamo in zona fucsia siamo i cinesi i cinesi che ci conquistano gli americani Trump sono gli altri le nostre responsabilità cosa sei disposto a fare da qui al 17 marzo 2022 è tutto là è tutto là ragazzi quando lo capirete ci sarà quel click quando ti hanno detto ma che cazzo stai facendo come hai reagito? eh è stata interessante questa cosa che ho reagito in due modi quando me l'hanno detto i miei colleghi io ho detto perché tu saresti in grado di farlo ho fatto questa domanda qua lì mi ha fatto no ah io ho detto io lo voglio fa poi magari mi fermo e invece quando per esempio me l'ha detto tipo la mia ragazza ha detto ma tu ti rendi conto di quello che stai facendo mi ha detto in un altro modo e io ho detto sì me ne rendo conto nel momento in cui ogni giorno la pubblico perché cioè fino a quando non c'è proprio il momento in cui mi metto davanti al piano e lo faccio la consapevolezza che io stia facendo qualcosa di per me è normale però ecco gli occhi della gente sembra sembra una cosa assurda no e questa cosa qua mi fa gasare ancora di più perché dico cacchio io voglio far questo nella vita questo è il mio mestiere quindi per me deve essere deve essere normale quello che gli occhi della gente sembra assurdo invece cioè sto andando in difficoltà pure a spiegarla questa cosa perché da un lato comprendo chi mi dice ma ma chi te lo fa fare dall'altro dico sì ma se non provi non lo puoi sapere come va a finire quindi questa è la risposta che dovresti dare che dovrei dare ah no lo sto scrivendo un trattato se non provi non puoi saperlo però io mi ci credo perché quel webinar è stato quello il mio primo webinar tu calcoli che nei primi cinque webinar non ho anche registrato il video quindi io avevo solo l'audio avevo creato Clubhouse senza saperlo praticamente ed è stato assurdo io ho avuto quel momento ecco questa domanda qua quante quante canzoni hai fatto fino ad oggi? allora oggi siamo a 46 ok cosa è stato quello è stato c'è stato un momento dove ti sei fermato e hai detto e che cacchio sto facendo c'è stato c'è stato c'è stato ti dico pure il giorno perché me lo sono segnato al giorno 23 al giorno 23 ho cominciato a dire ma io veramente mi sto mettendo tutti i giorni a a fare una canzone al giorno a a non pensare a quello che mi sta succedendo perché poi per esempio no uno pensa sempre il fatto ok tu fai una canzone al giorno finisci là in realtà tu c'hai una giornata di 24 ore che che ti mette davanti tante cose per esempio ho avuto dei problemi a livello familiare per esempio mio zio è stato ricoverato in quel giorno ho detto ma io io devo fare la canzone al giorno adesso in queste condizioni e e sono tornato a casa alle 10 e un quarto e il mio obiettivo era farla prima di mezzanotte perché avrei perso la sfida con me stesso ed era quello che mi preoccupava cioè io pensavo al viaggio di domani mattina al giorno di domani mattina che avrebbe detto hai visto non ce l'hai fatta invece no ho detto no non esiste io dalle 10 e mezzanotte mo lo devo fare non mi interessa mi ci sono messo e l'ho fatto però c'è stato il momento ti ripeto dove mi sono guardato allo specchio e ho scritto questa frase nella canzone numero 23 non è la 22 non mi ricordo un naso da pagliaccio per confortare l'uomo nello specchio perché io mi sono guardato e ho detto se non lo fai tu cioè se non ti ce lo metti tu sto naso da pagliaccio e tu ti consoli ti dai una mano non lo farà nessuno quindi ecco per tornare in tema quella è stata la frase che poi mi ha spinto pazzesco un naso da pagliaccio per confortare l'uomo nello specchio ragazzi è una maschera questa pochi lo sanno è una maschera che ti permette di fare tante tante cose io ho smesso di fare il clown quando ho capito che questo non era una cazzata non era un faccio il clown no ho studiato clown con due due maestri forti Jan Algy che prima o poi porterò e Jan Mingolt e soprattutto con Jan siamo andati in profondità dentro a scavare io sono stato male io sono stato male e ho smesso di fare il clown ho detto ho detto basta era veramente un lavoro su se stessi enorme non ce la facevo non ce la facevo perché ho scoperto che è una maschera enorme e che ti può permettere veramente di andare in profondità su di te perché con quella cosa là tu puoi tirare fuori tutto puoi tirare fuori con quel naso ma nello stesso momento puoi coprire tutto cioè puoi tirare fuori tutto o nascondere tutto con quel naso ecco tanti nascondono dietro quel naso qualcosa tanti lo nascondono ed è ed è forte bellissima questa frase un naso da pagliaccio per confortare l'uomo nello specchio lo dico perché è capitato anche a me durante il lockdown che a un certo punto io non guadagnavo perché tutti i webinar li ho sempre fatti donando anzi volevo ringraziare tutte le persone che hanno donato fino a oggi devi sapere che fino a quest'estate abbiamo donato 10.000 euro a tre associazioni una per la fibrosicistica una per la SLA e una per i bambini malati di tumore con tutti i soldi che sono derivati dalle persone che ogni volta che vedevo una puntata io ho rotto le balle in maniera che tu non puoi capire dicendo siete delle merda perché non donate ne ho dette tu non puoi capire questo però ha permesso veramente di aiutare delle associazioni che erano in un momento complicato adesso è un sogno ancora più grande ma in questa puntata non lo dico perché questa puntata è dedicata al tuo sogno e io voglio in tutte le maniere far sì che questo sogno vada avanti so che mandandoti 20, 30, 50 euro non ti cambiamo la vita ma cambia la vita ragazzi una cosa non sono i soldi questo lo scrivo non cambia la vita il denaro il denaro ma il gesto non riuscirete a capirlo quello è il momento dove fate click non è i soldi che mandate è il gesto è il gesto che crea ossitocina ossitocina quando tu doni dentro di te il tuo corpo nell'atto di donare crea ossitocina e stai meglio e ti rilassi perché questo questo neurotrasmettitore ti permette di rilassarti quando tu doni agli altri tu stai meglio è una medicina la medicina ce l'abbiamo all'interno del nostro corpo è molto semplice basta donare quando doni tu stai bene perché si crea l'ossitocina pensate che è facile quindi oggi avete una grande opportunità quella di donare anche un euro ma è il gesto che fa la differenza perché quando Joe vedrà che gli arriva hai il paypal tu? sì 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 perfetto quando gli arriverà il paypal con i nomi delle persone non sarà la somma che fa la differenza la somma di quegli euro ma è il gesto di tot persone che si sono prese il tempo per fare quello c'è ragazzi io ho io ho una manina che adesso ce l'ho nella borsa tipo questa qua regalata da Marcello Daleno durante lo clown perché io mi grattavo con il righello durante lo clown mi grattavo con il righello e lui mi ha mandato una manina che non è questa ma la tengo in borsa per grattarmi quanto costa una manina? 5 euro? non è la manina è il gesto ho un tappetino qui davanti che non si vede ve lo faccio vedere il tappetino questo tappetino me l'ha mandato Marina e Gidi durante il lockdown perché io facevo ginnastica su un uno straccio verde lei me l'ha comprato me l'ha mandato da Amazon me l'ha mandato a casa quanto costa quel tappeto ragazzi? mica 200 euro eppure il gesto di questa persona che mi manda a casa un tappeto io ogni mattina ogni sera faccio stretching l'olio che ho ricevuto da Fiorentini il vino che ho ricevuto da 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 Leonardo i libri questo libro mi è stato regalato questo libro questo libro mi è stato regalato che mi sono arrivati a casa va bene avrò altri in giro adesso non sono anche dove ce li ho ne ho ragazzi di libri che mi hanno regalato che voi non avete idea questo qua che mi è stato regalato da Kajabi cioè donare vi cambia il mondo tot persone c'è un numero quel numero avrà un senso brava vi rendete conto cosa potete fare non sono i soldi è il gesto che fa la differenza il gesto altruistico genero sitoscina e voi state bene mamma mia pazzesco guarda Gio io sono veramente felice di averti invitato questa puntata perché sapevo già in cuor mio che sarebbe venuto fuori qualcosa di grande prima di finire mi fai un altro pezzo poi devo fare il riassunto finale quindi preparati perché c'è un regalo da farti fai quello che vuoi quello che vuoi dai allora facciamo così ti faccio ti faccio il primo pezzo che ho scritto che poi è quello lì che ho portato da Redroni a Sanremo e fa così si chiama Lobotomia guarda guarda la cosa il nome perché è un pianista mi disse è un testo lobotomico mi vado a informare capisco cos'è decido di chiamarla così ho fatto passi su cieli grigi di città guardando gli altri senza mai sentirmi a casa e ho un amico in ferrovia che ha un granello di sorriso per me forse è l'unico che sa quanto pesa il mio star sveglio a metà non ti chiederò che è un abbraccio in più se la luna non c'è questa gravità spinge l'anima a vestirsi di bugie per vivere per vivere perché come disse un mio collega mago duemila anni fa non date perle ai porci e solo chi segue il webinar launch vede queste cose meravigliose e soprattutto i polli rimangono fuori tranne lei lei è polli lei è l'unica che può stare dentro anche oggi una puntata veramente pazzesca Gio prima di salutarti devo intanto chiedo alle persone di commentare intanto Michela dice pelle d'oca grazie insomma un maiale e un pollo ci voleva anche l'oca così abbiamo fatto tutto lo zoo applausi da parte di Andrea Zucca e vabbè prima di finire dico che innanzitutto devo fare il riassunto prima del riassunto devo ringraziare Raboso e Prosecco by Leonardin etichesserelle lavagne magiche progetto perfetto by Matteo Scalise webinar pro living media due led di pr ne abbiamo convergo e se volete fare web marketing Valerio Fioretti che oggi o anche la boraccia quindi sono sponsorizzato in tutto in tutto e per tutto ragazzi quindi boraccia by valerio.it allora arriviamo alla parte finale la parte finale è questa qua innanzitutto gratificate condividete coinvolgete fate un post scrivete fatelo sapere a tutti che esiste questo ragazzo straordinario dove ti possono trovare le persone allora potete trovarmi sia su instagram basta cercare gioromano music oppure basta scrivere cantautore su instagram ho scoperto questa cosa che mi hanno riconosciuto come cantautore cioè basta cercare cantautore su instagram e mi trovi poi su facebook ovviamente su spotify dove ho rilasciato qualche pezzo fantastico quindi verremo a cercarti andatelo a cercare ma soprattutto gratificate condividete coinvolgete fate uno screenshot prendete un pezzo della sua fate quello che volete fatelo vedere al mondo non siate estitici altrimenti che fai qui vi colga come sempre se volete migliorare venite inoltre vaioltre.it l'opportunità per diventare un esploratore è andare a prendere questa puntata a sviscerarla a fare i webinar a parlare di come avere un'idea e realizzare il proprio progetto quindi chi viene oltre chi diventa un esploratore avrà delle cose in più che non mi interessa dirvelo se volete dovete informarvi io non vendo niente io do l'opportunità alle persone di realizzarsi ma se voi non fate il primo passo io non vengo a prendervi a casa costanza e creatività questo abbiamo parlato oggi di costanza e creatività 365 canzoni una al giorno come dice mogol devi avere una storia e soprattutto la tua non basta devi avere anche le storie degli altri ascoltare guardare gli altri quindi devi stare attento devi prendere nota devi avere il tuo blocchettino iscriverti tutte le cosette devi metterti là a fare non aspettare che ti arrivi la manna dal cielo ad esempio parti dalla cultura quindi da qualsiasi tipo di cultura è qua quello che vuoi ok quello che vuoi lui ad esempio ha preso i miti greci e ha preso alcune cose e le ha trasformate in testi riesci a farlo entro stasera ecco qua la domanda riuscite a farlo entro stasera voi riuscite entro questa sera a fare un post su facebook dove parlate di Gioromano ce la fate? oh è troppo difficile eh no sai c'è il pesce rosso con la tosse sto manteccando il risotto mi scade yogurt nel frigo quali sono le scuse che trovate per non migliorare il mondo ecco avete due possibilità o fare un post dentro questa sera o mandarmi una scusa eh no sai io la scelta è sempre vostra la musica ricordatevi è infinita e non solo il nostro cervello è infinito i limiti esistono solo nel nostro cervello basta togliervi e voi andate dove volete non esiste zona rossa ve l'hanno imposto voi prendete un aeroplanino andate in alto e guardate giù e ditemi se vedete delle zone rosse non ci sono zone rosse è tutto qua è tutto qua ragazzi la musica è infinita cosa sei disposto a fare da qui al 17 marzo 2022 ogni giorno chi risponderà molto probabilmente sta creando il suo successo tutti gli altri qua 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 dimostrare e darsi scadenze dimostrare e darsi scadenze dimostrare significa che se lui ha detto che ogni sera fa la puntata ogni sera deve metterla e quindi se alle 10 mezza di sera arriva a casa un'ora e mezza per farlo perché perché l'ha detto e quando lo dici devi mantenere la promessa altrimenti la gente dice che cazzo hai fatto e quindi devi darti delle scadenze devi creare dei micro step che ti permettono di creare 365 canzoni come uno al giorno non 365 tutte insieme uno al giorno una canzone al giorno abbiamo premiato la progettualità quindi uno che arriva e dice farò 365 canzoni è stato premiato ancora prima di farle ecco perché non dovete aspettare di fare qualcosa perché vi fermate perché vedete la montagna troppo alta e non potete arrivare lassù fate i primi 200 metri e incontrerete già persone meravigliose 365 note così l'ho scritto perché mi piaceva questa cosa qua bisogna avere perseveranza potevi fare un mese sì ma un anno se lo ricorderanno tutti un mese forse no so di farlo no perché non sai cosa potrai fare non sai perché la vita non è quella che vorresti che sia la vita è quella che è diceva Virginia Satir e io giungo sempre che tutto dipende da cosa tu fai poi per rendere tutto ciò vero ma se tu non fai niente hai già perso in partenza ecco perché non fai semplice non fai perché pensi di non esserne capace e ti fermi là e invece la domanda è però il sapere di lasciare una traccia il fare quel qualcosa ti crea la motivazione quanto è grande la tua motivazione per arrivare a questo è passato da video e collaborazioni ci ha fatto altro ha fatto cose si è messo in mezzo la gente ha incominciato a conoscere a intrecciare relazioni grazie a queste relazioni e quindi a queste connessioni è riuscito a creare un gruppo di persone che l'hanno supportato che gli hanno dato dei feedback dove lui ha potuto anche chiedere qualcosa bisogna partire con la mano sugli strumenti fate dirette in StreamYard le fate all'interno del gruppo esploratori dove siamo in TOT non dovete farlo al mondo intero non penso che tu quando hai incominciato hai fatto le dirette e le hai pubblicizzate in tutto il mondo corretto? corretto l'hai fatto per te e basta non dovete farvi vedere da tutto il mondo ma se non vi prendete il tempo di fare ragazzi non funziona non funziona dovete prendere il tempo fate 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 lo mettete nel gruppo nel gruppo una diretta al giorno nel gruppo lo fate per cinque giorni poi mollate perché? perché non avete una motivazione ed è tutto là ragazzi non ne usciamo da questo cerchio uso quindi StreamYard dirette post blog Lumenfine abbiamo parlato con Federico Vitiello Lumenfine l'avete fatto in due è tutto là quindi prendete informazione usate gli strumenti e poi creati i contenuti ma ti rendi conto? sì quando lo pubblico alla domanda ma ti rendi conto di quello che vuoi fare? e forse nel mentre non te ne rendi conto ma quando lo pubblica si rende conto di quello che sta facendo ecco perché dovete aspettare la fine non bloccarvi all'inizio fate per arrivare alla fine fatto è meglio che perfetto agli occhi della gente sembra assurdo e proprio perché è assurdo dovete farlo perché quando vi diranno wow che bella idea è un'idea di merda è l'assurdità che vi rende unici perché nessuno lo farebbe quando tu hai un progetto dici voglio fare questo e ti dicono no che figata lascia perdere perché se è figo lo stanno già facendo altri perché è semplice ma se il tuo quello che tu pensi è assurdo hai vinto fatti dire che è assurdo fatti dire che sei un pazzo scatenato oggi sei un pazzo scatenato bene grazie era quello che volevo sentirmi dire che andate alla ricerca della gente che vi dice che siete assurdi proprio perché assurdo va fatto se non provi non puoi saperlo non puoi saperlo ragazzi non potete sapere dovete fare per capire al giorno 23 si è chiesto ma cosa sto facendo è tutto là ragazzi bisogna arrivare al giorno 23 e quando arrivi là dire vado avanti perché perché non c'entra più questa non c'è più questo c'è questo c'è un qualcosa dentro che ti dice vai avanti perché non c'è un perché non c'è un fottuto perché mettetevelo nella testa togliete il formatore che vi dice voi dovete avere un perché non ci sono perché il perché serve solo per la mente per andare a chiudere un cerchio che il cervello ha bisogno il cervello sempre deve chiudere i cerchi perché è progettato per chiudere cerchi dentro l'anima non ha cerchi è un flusso l'universo si chiama universo perché un unico verso non è un cerchio l'universo è una cosa continua la vita è un cerchio ma l'universo è continuo quindi c'è qui che vi gira qualcosa e quando lo sentite andate avanti sentite la vostra pancia il vostro cuore perdere la sfida con te stesso ecco cosa succedeva a non fare sei disposto a perdere? dillo a tutti quindi e mettilo in gioco e mettiti in gioco dillo a tutti però lo devi dire a tutti scrivi un po' su facebook da oggi farò per mille giorni per 300 giorni lo devi dire a tutti ma se non lo dici nessuno lo sa e quindi appena non l'hai fatto chi se ne frega tanto nessuno lo sa è facile mascherina un naso da pagliaccio per confortare l'uomo nello specchio ecco se volete ve lo presto ve lo presto quando volete ve lo presto e continuate a prendervi in giro ve lo mando io non cambia la vita il denaro ma il gesto fate un gesto perché quel gesto vi crea ossitocina e se siete arrivati fino a qua vi ricordo di paypal.me slash donnawebinarlunch tutto quello che tireremo su in questa puntata sarà un gesto utile per farci che un cantautore possa realizzare il suo sogno dice grande Gio continua la tua canzone mi entrata è tutto in poli della pelle Giulia dice Magikor e Francesco chiude con ho il kefir in frigo che mi scade ragazzi è stata una puntata incredibile un'ora e quindici minuti di bellezza Gio Romano grazie grazie a te Walter grazie a tutti voi ragazzi veramente di cuore grazie perché mi avete donato voi qualcosa senza saperlo quindi grazie guarda farò veramente il possibile anzi l'impossibile perché sono un mago per parlare di te per metterti nelle room per farti vedere cioè veramente penso ho fatto anche un video adesso con la telecamerina per farlo ancora più figo per parlare di Gio Romano ragazzi Gio Romano seguite Gio Romano è un pazzo scatenato che ha deciso di fare 365 canzoni in un anno una al giorno una al giorno una al giorno e tu cosa sei disposto a fare una al giorno bene grandissimo rimani qua che ti saluto dietro al backstage e quindi che dire grandissimo dice Francesco Boccardo fate la donazione ragazzi aiutiamolo perché faccio anche una foto vai 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 grazie dice Andrea grazie al gioccoliere delle note Gio Romano che figata sta cosa del gioccoliere guarda la userò nella bio pensa te e mi pagano per fare queste consulenze ogni volta le faccio gratis mannaggia miseria non farò mai la villa Dubai veramente mai mai foto fatta e la pubblico subito spettacolo spettacolo allora che dire prima di chiudere facciamo questa cosa mi hai fatto venire in mente questa roba che non faccio mai quindi rimani là allora senza premuto perfetto sono ancora in diretta vi faccio questa Instagram story perché vi faccio vedere questo personaggio che ho appena intervistato eccolo qua il gioccoliere delle note eccolo qua si chiama Gio Romano ragazzi Gio Romano spettacolo seguitelo fatto così ho anche la storia di Instagram grazie mille grazie a tutti ragazzi grazie a tutti aspettiamo il prossimo Spotify dice Michela e quindi grazie allora Gio fai così suona e poi chiudo la puntata così non metto la sigla e tu suona la chiudiamo in questa maniera incredibile ladies and gentlemen è finita questa puntata meravigliosa grazie a Gio Romano ciao a tutti